Buongiorno amici trattoristi, oggi vi presento un'Alpina Econom modello 2.4 LB del 1954 trattore svizzero. Non so se ho messo la terza, aspetta, la rifacciamo. Abbiamo il freno a pedale, che però è un freno a comando idraulico, che non ho capito cosa sia, ma fa niente. Abbiamo la presa di forza qua dietro. No, questo è il differenziale, bloccaggio è il differenziale. C'è il clacson. Funziona? Prova. Funziona. Ad il quarto? Parti. In terza. Speriamo l'endritio!